La pressione sulle regioni centro-settentrionali italiane è rapido aumento, un vortice depressionario sulle regioni meridionali in fase di colmamento, flusso moderato di correnti nord-orientali, fino a giovedì alta pressione sulle nostre regioni. In Toscana, mercoledì 18 novembre, cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, venti deboli nord-orientali con locali rinforzi, mari poco mossi o localmente mossi a largo, temperature minime e sensibile calo, massime stazionarie. Anche sul territorio provinciale, cielo lindo e sereno, a Lucca e sulla Piana, temperatura minima 3, massima 17 gradi. In Valle del Serchio e zone montane, minima 3, massima 15. A Biareggio e sul litorale, minima 6, massima 17 gradi. Giovedì, da sereno a nuvoloso in serata, con locali deboli piogge.